Buongiorno a tutti. Mi è stato chiesto di parlare del rapporto industria-distribuzione, con particolare riferimento al tema dei rapporti negoziali, un tema difficile e poco trattato per la verità, che io ho cercato di fare anche col vostro aiuto attraverso una ricerca che abbiamo fatto somministrando un questionario online. Hanno risposto 120 produttori e 69 distributori. Prima di presentare alcuni dei principali risultati di questa ricerca, volevo però fare alcune riflessioni sulle condizioni di base che caratterizzano lo sviluppo di rapporti collaborativi o conflittuali. E vorrei farlo non in termini assoluti, ma in termini relativi, cioè rispetto al grocery alimentare affini. Questo perché il grocery è un po' un benchmark per il vostro settore. Se volete sapere cosa non bisogna fare, guardate al grocery. Proprio in questi giorni è uscito un rapporto dell'Antitrust sui rapporti negoziali, industria-distribuzione nel grocery, da quale sono emersi elementi di notevole problematicità. E quindi quali sono, per cominciare, le condizioni di base più rilevanti? Il primo tema è quello della recessione. È ovvio che quando calano i consumi, essendo il rapporto di canale un gioco a somma nulla, quello che guadagna è uno lo perde l'altro, la recessione porta conflittualità. Ora, i dati sulla recessione del vostro settore, per la verità, sono abbastanza conflittuali. Perché abbiamo sentito Luca prima dire meno 2 nel 2012, però io ho visto un più 2 e anche un meno 5,5. Quindi, diciamo, dati che sono tra loro contrastanti, ma soprattutto dati che riguardano il 2012. È il primo anno in cui si verifica una contrazione. E poi questa contrazione si è verificata soprattutto nei paesi che hanno un'alta penetrazione, non nell'Italia, dove il consumo pro capite è decisamente espandibile. Perché in Italia il consumo pro capite è un terzo della Germania, un mezzo della Francia e un mezzo dell'Inghilterra. Ora, è vero che la recessione con la crisi dell'edilizia riduce la domanda del bricolage. Ma è anche vero che se si riducono i soldi disponibili, la gente ha più tempo e voglia di farsi i lavori da sé. Quindi ci sono queste spinte contrastanti. Quello che posso dire, concludendo su questo aspetto, è che non mi pare che la recessione abbia creato nel vostro settore un contesto per lo sviluppo di rapporti conflittuali, così come ho visto in altri settori. Altro elemento rilevante è la tipologia d'acquisto. Sempre rispetto al grocery, nel vostro settore l'acquisto è sostanzialmente programmato. Questo vuol dire che alcuni degli elementi su cui si basa la conflittualità nel grocery, cioè la conquista dello spazio, dell'evidenza a punto vendita, sono molto meno avvertiti. E poi il ruolo della marca commerciale. L'abbiamo sentito prima, sia nella relazione di Luca che nella relazione di altri, che la marca commerciale nel vostro settore ha un ruolo completamente diverso rispetto al grocery. Non si contrappone alla marca commerciale. Non parliamo di concorrenza verticale. Il massimo è quando la marca commerciale diventa di filiera, che per definizione è un'altra cosa. Anche da questo punto di vista il contesto è favorevole più alla collaborazione che al conflitto. La concentrazione. È ovvio che la concentrazione del retail determina un potere contrattuale negli acquisti e quindi una conflittualità. A parte il fatto che le grandi imprese non sono solo fonte di conflitti, ma anche di opportunità. Perché spesso le aziende industriali riescono a trovare forme di collaborazione con i grandi retailer e non con i piccoli. Ma nel vostro settore, sempre rispetto al grocery, la concentrazione non è ancora elevata. Il peso del tradizionale in alcune categorie è ancora molto forte. Penso per esempio ai colori e alle vernici. Quindi anche su questo fronte non mi pare che ci siano elementi di sviluppo della conflittualità. Poi c'è un elemento interessante che è la canalizzazione selettiva del prodotto. Ho visto che nel vostro settore, e i dati lo confermano, alcune aziende industriali canalizzano il prodotto professionale attraverso il tradizionale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che adottando una distribuzione selettiva si riduce l'intertype competition, cioè la competizione tra canali. Nello stesso tempo però si perde un'opportunità. Perché oggi alcune insegne vorrebbero avere il prodotto professionale da offrire al suo consumatore. Anche perché sono frequenti i casi di consumatori che acquistano la materia prima in quanto il professionista gli chiede di acquistare la materia prima. A me è capitato un esempio personale, devo far pitturare la casa, il pittore mi dice compra i colori. Dice ma per che li devo comprare? Perché questo mi riduce il mio fatturato e se te li compro io ti faccio un margine aggiuntivo. Quindi c'è un motivo fiscale che orienta i professionisti a trasferire sul cliente l'onere dell'acquisto della materia prima. Cosa è meglio? Ovviamente c'è un trade-off, aspetta voi sciogliono, io mi limito a indicare i pro e i conto. E infine le politiche assortimentali. Non mi pare che in questo settore ci siano esempi di razionalizzazione dell'assortimento, di politiche di differenziazione dell'assortimento per formato mercato, come vediamo nel contesto grossi e che stanno alla base di alcuni elementi di conflittualità. Insomma, per concludere su questo aspetto mi sembra che il contesto sia più favorevole per una relazione collaborativa che conflittuale. E adesso vi presento qualche risultato della ricerca che abbiamo fatto somministrando online il questionario. I dettagli li potete chiedere naturalmente all'organizzatore del convegno. Comincio col dire che hanno risposto tradizionali, grandi, suffici, felici e specializzati, GDO e anche B2B. Vedete in questa chart la composizione del fatturato dei rispondenti. Quindi diciamo un panel abbastanza trasversale. Ecco, la concentrazione. Dalle risposte che abbiamo avuto il primo fornitore rappresenta il 23% del fatturato e il primo cliente rappresenta il 27% del fatturato. Le canne gialle sono le risposte dei distributori, le canne rosse sono le risposte dei fornitori. La concentrazione a 4 aumenta rispettivamente a 33 e 43 e i primi 10 fornitori rappresentano il 47%, mentre i primi 10 clienti rappresentano il 49%. Quindi un mercato che pur frammentato comincia ad avere una certa concentrazione e in questo senso assomiglia un po' al grocery dove i primi 10 clienti faranno il 60-70% del fatturato. Ecco, questa tabella ritengosi interessante perché evidenzia le differenze tra industria e distribuzione nell'interpretare la struttura della scontistica. Vedete, nella prima riga ci sono gli sconti in fattura che secondo i distributori si posizionano intorno al 50% negli anni che vanno dal 2007 al 2010. I fornitori invece hanno riferito di sconti in fattura molto più contenuti, intorno al 30%. Naturalmente questa differenza degli sconti in fattura trova un suo corrispettivo nei fini anni, dove è l'industria a dare cifre più alte rispetto alla distribuzione. I contributi per attività di marketing sono allineati, industria e distribuzione danno risposte abbastanza simili e devo dire che l'incidenza è decisamente meno forte rispetto a quella che troviamo nel settore del grossere. Poi ho chiesto come si distribuisce nella filiera il valore negoziale, quindi dove si concentra la negoziazione. Ecco qui le risposte vedete sono abbastanza simili perché a livello di centrale, cioè il primo livello in cui si negozia, si concentra dal 62 al 65% del valore negoziato, segue il gruppo distributivo e infine il punto vendita. Sul ruolo della centrale le opinioni sono in parte convergenti e in parte divergenti. Ho chiesto se la negoziazione in centrale anticipa la negoziazione nelle fasi successive e la risposta è stata positiva sia per industria che per distribuzione, vedete oltre il 50%. Ho chiesto se gli istituti negoziali, cioè le tipologie di sconti trattati ai diversi livelli sono gli stessi o diversi e abbiamo avuto una risposta di differenziazione per il 42% dei retailer e 65% dell'industria. Sulle garanzie delle prestazioni a punto vendita c'è invece una distanza sostanziale come mi aspettavo, perché secondo i retailer le prestazioni sono garantite per il 17%, secondo l'industria per il 38%. Il pagamento anche qui è garantito per il 13% dei retailer e il 28% per l'industria. Il credito di fornitura per il 7% dei retailer e il 15% dell'industria. Gli inserimenti diretti, cioè la possibilità per l'industria di inserire direttamente il prodotto a punto vendita bypassando la centrale, ciò che riduce il potere negoziale della centrale. È una fattispecie che si verifica per il 47% dei retailer e per il 64% dei fornitori. E infine la dismissione delle forniture agli affiliati cessati. Alcune centrali chiedono ai loro fornitori di non continuare a rifornire gli affiliati che escono dal sistema di affiliazione. La risposta è stata 18% dei retailer e 37% dell'industria. C'è un fronte su cui industria e distribuzione hanno un comune interesse, lo abbiamo visto anche nelle relazioni precedenti, che è quello di dare al consumatore una risposta più in linea alle sue esigenze. Nel nostro Paese il consumo pro capite è relativamente contenuto e quindi spazi di collaborazione per aumentare insieme il consumo pro capite ce ne sono e sono rilevanti. Il problema è come? Ecco allora industria e distribuzione danno risposte che sono in parte simili e in parte diverse. Convergono sulla necessità di fare formazione per il personale di punto vendita e di fare evolvere il punto vendita e il venditore da venditori di prodotti a venditori di soluzioni. L'abbiamo già visto anche nelle presentazioni che sono state fatte prima. La distribuzione evidenzia anche la necessità di differenziare la politica assortimentale per formato mercato, mentre questo è un elemento che viene indicato con meno importanza dal fornitore. La distribuzione vorrebbe un aumento della pressione professionale, cosa che non troviamo nel ranking dell'industria. All'ultimo posto troviamo lo sviluppo della marca commerciale, che nonostante il potenziale che abbiamo visto nelle relazioni precedenti, almeno i rispondenti non considerano come prioritario per l'aumento del consumo pro capite. Se guardo sul fronte industriale propriamente detto, il 93% delle aziende verifica le prestazioni e nella misura del 59% blocca la liquidazione dei contributi quando queste prestazioni sono carenti. La canalizzazione selettiva dei prodotti professionali riguarda il 42% dei rispondenti. La disponibilità a differenziare le forniture per formato mercato riguarda invece il 95% delle aziende industriali, cosa che mi ha molto stupito, perché in altri settori non trovo una propensione a collaborare per customizzare l'offerta alle esigenze locali. Aziende che differenziano le vende di red online, 14%, cioè ci sono aziende che hanno la preoccupazione di non sovrapporsi ai clienti attraverso il canale online. In effetti il canale online può essere fonte di conflitto e di collaborazione, dipende da come viene utilizzato. I fornitori che pensassero di andare direttamente al consumo attraverso il canale online non avrebbero chiaramente un facile accoglimento da parte dei retailer. Quindi molto meglio implementare le soluzioni che sono state presentate anche nelle precedenti relazioni, dove il canale fisico va in sintonia col canale digitale. La disponibilità a produrre referenze specifiche. Per referenze specifiche intendo prodotti diversi da quelli proposti con la marca industriale. Ecco, referenze specifiche per la marca commerciale. Anche qui troviamo l'86% dei rispondenti, quindi un'opportunità che è un peccato non sfruttare. La marca commerciale conta ad oggi intorno al 14% e ha un potenziale di crescita se gli attori di questo mercato vorranno svilupparlo. Guardando poi, facendo una sintesi dei diversi orientamenti e individuando quelli più contivisi per lo sviluppo di un rapporto, diciamo, di collaborazione, ho fatto questo elenco che adesso vi leggo. Articolare l'assortimento di categoria in diversi brand. Sembra una banalità, ma l'approccio di categoria non è poi così diffuso nel mondo del retail. Condividere il web come canale di attrazione al punto vendita. Spostare i contributi dalle centrali ai punti vendita a fronte di reali prestazioni di marketing. Sviluppare nei buyer una cultura di prodotto che permetta di coniugare prezzo e qualità. Condividere i dati di sell out e di penetrazione, quindi gli insight del produttore con gli insight del distributore, al fine di decidere l'inserimento nell'assortimento, ma anche di sviluppare attività di marketing integrato. E infine lo sviluppo della filiera corta che ho visto citare in molti contesti e mi pare che non abbia ancora avuto risultati oggettivi a questo punto, non ultimo figura alla fine di questo elenco, ma la filiera corta rappresenta un'opportunità, a mio avviso, sia per condividere il rischio, sia per passare a una relazione più trasparente di tipo net-net. Concludo con alcune affermazioni sul futuro del rapporto di canale nel vostro settore. Vorrei che tutti condividessero con me l'affermazione secondo cui la conflittualità implica un minore orientamento al consumatore e allo shopper. Quindi è sulla collaborazione che dobbiamo puntare. Questo significa che c'è molto da fare, sia per l'industria che per la distribuzione. Dal punto di vista dell'industria, si tratta di velocizzare il ciclo di vita del canale, che ha quattro fasi. Le vedete sulla lavagna. Si inizia con un rapporto prevalentemente transazionale, poi si allunga l'orizzonte temporale e prevale la componente relazionale, infine si sviluppa una collaborazione di marketing, si parla infatti di marketing integrato, e da ultimo l'obiettivo sarebbe neutralizzare il rapporto di canale ai fini della competizione orizzontale. È ovvio che una filiera integrata, come quella raccontata da Luca prima, è per definizione una filiera in cui non esiste il rapporto di canale e quindi non c'è problema nel azzerare, nel neutralizzarlo. Molte dei conflitti che abbiamo visto nella distribuzione grosseri nascono da questa circostanza. Cioè, ognuno compete sul piano orizzontale, ma cerca di avere gli strumenti per competere nella relazione con chi sta a valle o a monte. Ancora, l'industria deve essere disponibile poi a coniugare le informazioni sul consumatore che ha con le informazioni sull'acquirente che invece rappresentano il patrimonio del distributore. Per quanto riguarda le insegne, le cose principali mi sembrano intanto evitare la trappola degli acquisti indipendenti e più profittevoli delle vendite. che è quello che è successo nel grosseri, dove chi acquista è una persona diversa da quello che si occupa delle vendite e la profittabilità negli acquisti spesso ha avuto risultati non in sintonia con l'efficienza e l'efficacia delle vendite. Quindi occorre evitare che ci sia questa separazione tra le due anime del retail. E da ultimo, contribuire a mantenere il rapporto negoziale su livelli di trasparenza, di prevedibilità, contenendo anche la pressione promozionale. In un settore dove prevale la componente dell'acquisto programmato non è richiesta una pressione promozionale come quella che vediamo nel grosseri e che sta alla base di molte delle relazioni conflittuali che osserviamo. Grazie per l'attenzione.